lupen lupen l'incorreggibile lupen lupen l'inafferrabile lupen lupen ineguagliabile sei buongiorno buongiornissimo caffettino da quanto tempo mi mancava sto movimento sto movimento con la mano buongiornissimo caffettino buongiornissimo caffettino a tutti benvenuti a distanza di sei giorni dall'ufficialità di mazzarri ebbene sì perché esattamente una settimana fa non sei giorni una settimana fa walter mazzarri divenne il nuovo allenatore del napoli è diventato il nuovo allenatore del napoli a discapito di quel francese che non ci ha capito un cazzo non ci ha capito letteralmente una sega e tatticamente mentalmente dal punto di vista motivazionale già capito quals e se con garcia io non vedevo l'ora che la stagione finisse con mazzarri non vedo l'ora che arrivino le 18 di sabato sì con l'atalanta mazzarri non ha un esordio molto facile all'atalanta real madrid inter juventus e compagnia cantata quindi non ha un esordio molto facile però ho sento un'adrenalina un'ansia quella giusta ansia per dire ya dai dai cazzo dai cazzo perché con garcia vedevo proprio napoli empoli e partivo già sconfitto mentre adesso ok l'atalanta è difficile però a bergamo però c'è sempre quella speranza che quella nuova linfa comunque oggi non si parla di napoli perché non non c'è niente da dire a parte che mazzarri sta lavorando in queste in questi giorni la linea difensiva l'aspetto difensivo appunto cioè noi noi su twitch no siamo incompetenti cioè molti dicevano no ma la difesa è bellissima è ordinata è incredibile ci hanno ci hanno sventrato come se fossimo un qualcosa inesistente ok in tutte le partite cioè si contano sulle dita di una mano i clean sheet che abbiamo avuto quest'anno difesa imperforabile dicevano però mazzarri ci sta lavorando molto ma a parte questo discorso del lavoro difensivo e a parte il fatto che mazzarri ha colluquiato con i giocatori singolarmente facendo vedere proprio la sua umiltà ok il suo la sua voglia di lavorare non c'è niente da dire per quanto riguarda mazzarri oggi si parla dell'italia dell'italia che diciamolo dice diciamo se mi ha rubato passa per l'europe diciamolo diciamo dovevamo andarci di diritto perché secondo me questa regola va 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 abolita va tolta perché io trovo incommentabile che chi vince l'europeo debba fare le qualificazioni per quanto mi riguarda chi vince l'europeo o chi vince il mondiale dovrebbe andare di diritto al mondiale o all'europeo successivo però abbiamo fatto la qualificazione metà con mancini e l'altra metà con con spalletti con mancini vediamo una squadra totalmente a pancia piena con vocazioni più di riconoscenza che più che che perdi utilità con mancini un gioco che non esisteva e poi belle buona ha detto ha dato le dimissioni poi arrivato spalletti uno spalletti che molti napoletani lo lo etichettano come traditore come questo insomma lo hanno dipinto i tutti in tutti i modi possibili per quanto mi riguarda per quanto mi concerne da pensare mi viene da dire che nessuno può rifiutare la la chiamata della nazionale soprattutto a 64 anni per me voleva fare l'anno sabbatico però come ho detto due secondi fa nessuno può rifiutare la chiamata nazionale e si vede si è vista la mano di spalletti sei partite tre vittorie due pareggi e una sconfitta la sconfitta con con l'inghilterra una sconfitta che io mi ricordo benissimo non fu dato un'espulsione a un giocatore inglese e ieri ci siamo ci siamo rifatti con un rigore negato all'ucraina proprio solo per me era rigore qualcuno dice no non è rigore qualcuno si è buttato prima per me rigore punto cioè non ci sono santi non ci sono proprio non ci sono proprio scusanti perché la cristante allunga il tanto che basta la gamba e il giocatore non riesce a evitarlo per me era rigore e quindi è ladrata assoluta fosse capitato contro non avremmo goduto se non non se insomma l'esito fosse stato uguale ovvero non dato il rigore non avremmo goduto e perché non ce l'avevano assegnato contro ma comunque è andata così io mi confe io mi concentrerei più su quello che è accaduto prima perché è stata una partita strana un uno svezia vibes un macedonia vibes cioè che tu provavi a creare provavi ad attaccare ma in cor tuo pensavi a un'inculata cioè prima o poi un'inculata dietro l'angolo prima o poi ad arrivare all'inculata per fortuna all'inculata non è arrivata noi abbiamo sbagliato di tutto abbiamo sbagliato perché io ieri ho visto una squadra molto nervosa una squadra abbastanza in ansia una squadra che sbagliava le cose più semplici le cose più basilari una squadra che non sbagliava con la macedonia un paio di giorni fa i tecronisti rai dicevano no ma si vede la l'ucraina è bella fresca e tosta perché la la partita noi abbiamo giocato con la macedonia l'ucraina è stata bella fresca e tosta stronzata questo è un alibi stupido un alibi che solo i perdenti fanno e dicono noi abbiamo avuto poche occasioni quelle poche non le abbiamo concretizzate per esempio quella di frattesi con quella grande palla di chiesa frattesi nell'uno contro uno la tira in bocca al portiere c'è sta poca fa e per quanto mi riguarda chiesa è l'unico vero fenomeno che ha questa questa nazionale raspadore a me piace un botto raspadore ieri ha giocato anche bene nella fase di costruzione è molto utile però non è un bomber cioè ieri serviva un bomber è messo scamacca e non ha stoppato un pallone manco se se gli aumentavi io ho stipendio ha sbagliato di tutto di tutto scamacca c'è una cosa assurda cioè ha sbagliato di tutto e da mo fino a giugno bisogna sperare che scamacca migliori da questo punto di vista ma alla fine gli attaccanti su questi scamacca immobile è sempre stato il problema nazionale la mancanza di un bomber perché vedi l'inghilterra che in la francia a girù un bappé certo sto parlando di fenomeni di ottimi giocatori noi a parte chiesa non è che abbiamo grandi fenomeni però possiamo contare sul gruppo sul gruppo e sulla mi viene da dire la mentalità però ieri la mentalità è andata un po a farsi fottere cioè ieri ho visto la paura come ho detto prima una paura proprio di essere inculati all'ultimo e qua spalletti può fare poco perché lui già allena due settimane al mese forse ma neanche ma la prossima pausa sta a marzo per dire quindi già ha poco lavoro dal punto di vista mentale da fare però i miglioramenti ci sono visti inserimenti verticalizzazioni velocità possesso parla ieri c'è stata un po troppo un po troppa sterilità però l'attacco ieri è stato un po troppo confusionare un po troppo con la voglia di fare e quel troppo li ha portati a sbagliare difensivamente raga il problema dell'italia purtroppo dal mio punto di vista questo è il mio punto di vista è che in italia in serie a si giochi molto forse troppo con una difesa a tre o quantomeno i difensori che l'italia ha adesso sono braccetti scalmini è un braccetto mancini è un braccetto buongiorno è un braccetto buongiorno che ieri ha giocato anche bene cioè l'unico difensore che gioca centrale è acerbi e si vede un po che lui è bravo è bravo ieri buongiorno ha fatto bene bravo negli anticipi bravo nell'intercettare i tiri è stato bravo è stato onesto buongiorno però il punto cardine si vede cioè i difensori che giocano a tre trovano difficoltà quando giocano a quattro è vero nel calcio moderno ogni giocatore deve saper giocare in tutti i modi possibili in tutti i moduli possibili però non è facile non è facile se tu vai a giocare una difesa a quattro e vai a giocare ogni tot non ogni settimana ma ogni tot sono contento ovviamente perché non qualificarsi sarebbe stata una figura di merda colossale però quest'italia nonostante la qualificazione non ha risolto i problemi se la federazione inizia a smetterla di pensare a problemi stupidi e inizia a pensare problemi seri per un po rifondare questa nazionale per migliorarla un po questa nazionale invece pensare cazzi profi invece di pensare alla propria poltrona io la vedo male perché giustamente qualcuno dice ok ti è andata bene con l'ucraina come finirà con francia e compagnia cantante però io rispondo automaticamente che ogni partita ha una storia se quindi bisogna vedere bisogna vedere e sperare nel futuro alla fine che se che sia squadra giorginio ma io giorginio per me giorginio è per me è un ex giocatore per me è ok qualcuno dice ma non te la vedi la premier ok ma non c'è bisogno cioè giorginio non è un lobotica perché spalle a spalletti serve un lobotica uno che si giri nello stretto giochi palla veloce giorginio neri alla rallentata la manovra giorginio non è un lobotica però nello stesso tempo a spalletti serve un playmaker chi ci sta ricci che a me piace io lo prenderei a napoli ci sarebbe prati del cagliari che anche io lo prenderei era un obiettivo del napoli ma mi è andata a fanculo io prenderei uno questi due certo non giocano in big e questo è un problema questo è un problema perché poi se le big vogliono questi giocatori vanno a costare 30 40 50 milioni cosa che giustamente le big pensano a così allora vado a prendere ciccio pasticcio in america in argentina in questi paesi qua che costa meno e magari ci guadagno pure di più chissi discorso vabbè raga l'importante essere qualificati adesso non si spera altro che migliorare poi qualcuno che pure ti fa contro la nazionale ma come sa fatti fa contro la nazionale c'è chi dice ma sono contro la federazione perché così sono contro perché molti ci offendono col vesuvio eccetera eccetera qualcun altro è così qualcuno cita fuori i borboni i borboni l'unità d'italia madonna mia si ma si ma si ma arretrato proprio del 1800 si ma arretano carità ognuno è libero di fare quello che vuole ma dire vaffanculo italia un paese che ti ospita io non so cosa non so cosa vi passa per la testa un saluto a tutti forza italia e soprattutto forza napoli perché come ho sempre detto trofei del club trofei della nazionale per come la penso io un un saluto da tutti forza napoli e ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà il pre partita di atalanta napoli ciao io